Buongiorno a tutti. Allora, io sono molto contento di continuare questa nostra ricognizione sul tema del desiderio, avendo due ospiti che anche nei loro ultimi romanzi hanno trattato questo aspetto, però noi con loro abbiamo pensato che fosse interessante parlare del tema della vocazione, sia in senso laico che in senso spirituale, perché la vocazione ha molto a che vedere con il desiderio. Quindi ringrazio tanto Enrico Galliano per essere qui con noi. Enrico Galliano è uno scrittore e un insegnante di scuola media, ma notissimo come scrittore, sono numerosi i suoi romanzi, e insieme a noi c'è anche Don Alberto Ravagnani, sacerdote, scrittore, anche lui da poco, da pochissimo è uscito il suo primo romanzo, che è La tua vita è la mia, il romanzo di Enrico si chiama invece Felici contro il mondo. E dunque il tema della vocazione, probabilmente io mi auguro che vi sia capitato di vivere quei momenti in cui avete l'impressione che le vostre vocazioni si stiano realizzando e ti senti come se avessero costruito il mondo proprio tutto per te, e ti sembra tutto limpido e trasparente. Sono momenti incantevoli, non sono tanti, credo, nella vita, a volte non sono durevoli, però vanno inseguiti. Quando li vivi poi hai il desiderio anche di continuare a coltivarli. E hanno molto a che vedere con il desiderio, perché ti danno il senso di un compimento che hai inseguito lungamente. Allora io vorrei partire da una frase in realtà che è legata al desiderio e che è dentro al libro di Enrico Galliano, perché noi durante tutto questo festival abbiamo detto di slanciarsi contro il desiderio, andare a cogliere, andare a inseguirlo, cercare di stanarlo. E invece Enrico a un certo punto i suoi personaggi scrivono che bisogna stare attenti con il desiderio, perché potrebbe fare lo scherzo di avverarsi. Quindi questo è completamente opposto a quello che noi abbiamo cercato, però guarda come siamo democratici, ti abbiamo invitato lo stesso. Grazie, grazie, grazie soprattutto a voi che siete così tanti stasera. Qui vedo anche tanti uomini, ma è perché l'orario è perfetto per la partita che poi arriva per quello? Beccato, ok? Benissimo, giusto. Allora, è gioia che dice questa cosa qua, perché si trova in una situazione in cui all'improvviso un desiderio le si avvera, no? Forse il più grande che aveva, ne si avvera, però questo comporta un sacco di... io penso che due parole della nostra lingua italiana siano sinonimi anche se noi non ce ne rendiamo conto e sono la parola felicità e la parola fragilità. Cioè è solo quando davvero riesci ad essere molto, molto, molto felice che percepisci anche esattamente quanto tu sei fragile, quanto tu sei frangibile proprio, ti puoi rompere da un momento all'altro. A volte proprio a causa della felicità che hai conquistato. Io questa cosa qua l'ho scoperta, mio malgrado, senza volerlo, senza... alle 21 e 39 del 12 dicembre 2016, quando ho toccato il massimo punto della felicità che avessi mai provato in tutta la mia vita e contemporaneamente è arrivata anche al massimo della fragilità, perché era successo che da qualche secondo era uscita questa bambina dalla pancia della mia compagna. Io avevo la camicia tutta mezza strappata perché mia compagna mentre spingeva... diciamo non è stata molto gentile con me, ha un attimo infierito, ma non è lì che mi sono sentito fragile, eh? Un po' più tardi. Mi sono sentito fragile proprio dopo che è uscita, perché questa bambina dopo pochi secondi ha assunto un colore strano, no? E vedevo i medici tutti preoccupati e a un certo punto sento dire da uno, il suo pediatra, dire questa bambina non respira ed era blu. Con la mamma di là che mi guardava, no? Era tutta sconvolta ancora e mi fa com'è? Tutto bene, vero? E io certo, perfetto, guarda, non è mai stata mai... Boh, è durata credo tra i 30 secondi e i 40 secondi questo momento qua, ma sono stati, credo io, cinque anni di vita sono andati lì, quella sera avevo i capelli più bianchi dei tuoi, li ho tinti adesso infatti, ed è stato esattamente questo, sentire il massimo della felicità e contemporaneamente il massimo della mia fragilità, ho pensato, se succede qualcosa, io mi rompo definitivi, io sarò rotto per sempre dopo, chi mi aggiusterà dopo se succede questa cosa qua? Che non mi aspettavo perché non te l'aspetti, non te l'aspetti, neanche se te lo dicono che può succedere, te lo aspetti. E poi fortunatamente dopo 40 secondi circa, una sberla, non so cosa ha fatto, perché ho sentito un sciac, facevano come i giocatori della Danimarca, erano tutti intorno a sta bambina, io non vedevo niente, cercavo di intruffolarmi lì per capire cosa succedeva, ma loro mi spingevano fuori, non volevano che vedessi, con una sberla, ho sentito la bambina tossire e poi mettersi a piangere e vedere il pediatra che ha fatto, lui un sospiro di sollievo così, e anche io ovviamente, e lì ho veramente sentito quanto fossi aggiustato adesso e felice contemporaneamente. Eh no, effettivamente è vero, la felicità espone anche molto alle fragilità, tu tra l'altro Don Alberto hai un oratorio, tantissimi ragazzi a Buster Sizzio di cui ti occupi, ragazzi di età varie, ma penso che il tema della fragilità e della ricerca della felicità sicuramente con loro lo vivrai fortemente, perché poi quella è l'età in cui uno desidererebbe trovare la propria via, essere felice, però sente anche tante fragilità che lo contrastano. Vorrei chiederti, vorrei restare su questo stesso tema del fragile e del felice, chiedendoti intanto in relazione a te stesso e un po' alla tua vocazione, se tu nel momento in cui hai centrato la tua vocazione hai avuto l'impressione di essere, come dice Enrico, sì molto felice, ma anche di scoprire una fragilità in più che magari prima non sapevi di avere e che a volte è anche molto utile però per relazionarsi con le persone. E poi volevo chiederti invece se c'è un modo per curare le fragilità dei ragazzi che ti vengono magari a domandare che cosa devo fare, che cosa scelgo, dove vado, una domanda un po' ampia mi rendo conto. Poca roba, buonasera a tutti, è un piacere per me essere qui, Torino è una delle città che preferisco, prima del covid, tutto questo tran tran, ci venivo molto spesso perché ho tanti amici per cui gli amici che ho a Torino mi hanno fatto diventare amica la città, quindi è un piacere tornare. Questo tema per me è il tema della vita perché io ho sentito, ho trovato la mia vocazione nel momento in cui ho sentito e patito la mia fragilità. avevo 17 anni, ero in montagna, in oratorio, il don, i miei amici, gli educatori, insomma quel gran bellissimo contesto che sono le vacanze con l'oratorio e ero un ragazzo molto diverso rispetto a come sono adesso, ero piuttosto insicuro, un po' chiuso, molto timido, avevo tanto dentro di me, tanti talenti, tante capacità, tanto tanto, però era come se non riuscissi ancora a trovare una strada, un modo per poter esprimere tutto questo e questo blocco mi faceva essere triste, ma non capivo esattamente dove fosse il bandolo della matassa. Tutto quanto però ha avuto un momento di svolta il giorno in cui io mi sono per la prima volta reso conto delle fragilità che mi portavo dentro. Eravamo lì a fare una riflessione con il don, il tema della giornata era la delusione, si parlava di questo. Abbiamo letto un testo di Fabio Volo in cui parlava, era una lettera al padre morto, diceva che suo padre lo aveva deluso perché non gli aveva voluto abbastanza bene o perlomeno non nel modo in cui si aspettava. Suo padre era morto e non era mai riuscito a dirgli certe cose, questa lettera era un modo per alla fine poter chiudere i conti non solo col padre ma anche con se stesso. Leggere queste parole è stato un pugno perché mi ha messo di fronte a me stesso. Quel racconto in realtà l'ho sentito pronunciare da me. La mia coscienza mi diceva guarda che in realtà anche tu hai questa fragilità, anche tu sei ferito in questo modo e mi si è aperto il cuore, la ferita che da tempo c'era dentro di me si è aperta, ha sanguinato, ha fatto un male cane e mi sono scoperto fragile. A quel punto però è venuto il bello, sono andato a confessarmi dal don che tra l'altro aveva raccontato un po' della sua esperienza, della sua adolescenza e anche lui aveva raccontato una storia analoga a quella di Fabio Volo, analoga anche alla mia. Per cui mi sono sentito molto ascoltato. Bene, mi sono confessato e ho tirato fuori tutto quello che non avevo mai tirato fuori in 17 anni di vita ma nel momento in cui io avevo tutto il diritto di sentirmi a terra, triste, confuso, deluso, contuso, mi sono scoperto pieno. Tirando fuori tutto questo dolore, questa fragilità, da quella ferita è entrato qualcos'altro che in quel momento io percepivo come amore. Ho confessato di non sentirmi amato e mi sono scoperto amato. Io quello un po' dopo l'ho chiamato Dio, da quella ferita che è stata una feritoia attraverso cui Dio si è fatto strada dentro di me, io sono cambiato, ho trovato la mia vocazione, mi sono scoperto fragile e in quel momento mi sono dato la possibilità di essere felice. C'è una bella parabola di Gesù nel Vangelo in cui dice che il seme caduto in terra ha bisogno di morire per diventare fecondo. C'è bisogno di morire un po', di sperimentare la fragilità per aprirsi alla fecondità. Felicità, fecondità, in latino sono uguali, felix, in latino veniva utilizzato per indicare la fecondità degli alberi, gli alberi la frutto erano alberi felices. E quindi appunto per aprirsi alla fecondità della vita, alla felicità della vita, c'è bisogno di fare come il semino, morire, macerare un pochino. Quindi io per la mia esperienza personale le mie ferite sono sempre state estremamente feconde e lo sono tuttora. In oratorio ho ragazzi che come tutti i ragazzi affrontano la vita e devono fare i conti anche con gli incidenti di percorso, con le botte che la vita gli ha dato. Ecco, l'unico modo per affrontare le fragilità credo che sia quello di comprenderle, proprio in senso letterale, abbracciarle, ricoprirle di amore, far capire, far sentire a queste persone che le fragilità non sono un problema da eliminare, ma bisogna entrarci dentro, cioè bisogna passare da lì. Se passi per lì, per quelle fragilità che in fondo rivelano che tu sei amabile, non scarso, scadente, debole, amabile. Ecco, in oratorio, adesso c'è l'oratorio estivo, no? Un sacco di bambini, un macello, e la classica scena è questa qui, ci sono i bambinetti, quelli bravi, perfetti, quelli da dieci e lodi in tutto, che giocano a calcio, sono bravi, sono educati, e poi sono quelli un po' scalcagnati, no? Quelli che non rispettano una regola, dicono le parolacce, si azzuffano appena non li guardi, un disastro. Io mi sento di voler più bene a quelli più, più, ecco, meno bravi, quelli più fragili, appunto, perché la fragilità è un appello alla cura, a prendersi cura, e quindi a questi ragazzi che sono molto fragili, penso che l'antidoto alla fragilità sia all'amore, perché se sono ricoperte d'amore le ferite allora diventano spazi di fecondità e quindi di felicità. Direi che da insegnante Enrico è per forza d'accordissimo, però volevo anche chiederti una, poi fai pure la riflessione che ritieni, insomma, sulle parole di Alberto, però volevo inserire anche un altro tema che rispetto alla vocazione ha un suo valore, che è quello della paura, perché a volte quando ti scopri felice, che quindi come hai detto tu sarebbe un bel viatico per fare il salto, ti frega un'altra cosa, ti frega il fatto che hai paura di scoprire quella fragilità lì, è difficile pensare che quando ti senti così esposto in realtà sei sulla strada giusta. Sì, però ci dimentichiamo spesso di quanto la paura possa essere buona, per chi ha visto la serie tv Scrubs, adesso la alzo ancora di più, tu col latino ma io voglio andare ancora più in alto Scrubs, c'è quella puntata dove il dottor Cox dice a JD, guarda che la paura è buona, perché la paura ti tiene vivo e finché hai paura vuol dire che sei vivo, ricordatelo. E adesso sì, faccio veramente il professore, ricordiamoci anche che per gli antichi greci il dio Phobos è figlio di Afrodite e di Ares, è figlio della dea della bellezza e dell'amore e del dio della guerra, no? Quindi in qualche modo quando sentiamo questa paura arrivare dobbiamo essere certo spaventati e non bisogna reprimere, non bisogna nascondere, non bisogna, ma ricordarci anche che la paura è il primo segno che dobbiamo combattere per ciò che amiamo, che c'è qualcosa a cui teniamo davvero dall'altra parte, è per quello che arriva la paura, ricordarci appunto che oltre, oltre la paura, oltre quel passo lì che non sai se fare, oltre quella fragilità che non sai se attraversare, come diceva Alberto, c'è proprio quello che desideri, forse la tua vocazione, molto spesso è quello, lì c'è proprio lo spauracchio più totale, la fobia più grande è proprio quella nell'incontrare se stessi, nell'incontrare chi vogliamo essere, è quello che ci fa poi procrastinare, no? Le decisioni, che ci fa fare altre cose, perché poi siamo tutti molto bravi a mascherare le nostre paure con la, la chiamiamo non so, il buonsenso, ecco il buonsenso è la perfetta maschera di carnevale per la paura, e no però, se faccio così, no, meglio fare così con calma che, no, è un grande, è il rischio più grande questo, quello di sottrarsi, al rischio di guardarla negli occhi la paura, e non sto dicendo che sia una sensazione bella, piacevole, anzi, anzi, io ho vissuto per molti anni con un sacco di paura, ma a un certo punto mi sono fermato e ho detto, cavolo, ma io non sono felice, perché non sono felice? E non sono neanche spaventato, sono tranquillo, come mai non sono felice pur essendo tranquillo, pacifico, la mia vita, la mia amicizia, una fidanzata, era tutto tranquillo, ma sentivo che non è, cioè mancava qualcosa che, e quel qualcosa era, sia naturalmente, poi inseguire la mia vocazione, ma quel qualcosa era proprio, è troppo tempo che non ho più paura di niente, e se non hai più paura significa che non ti sei più messo in gioco, che non hai più partite importanti da giocare, che non hai più, no, dei fiumi da guadare per andare a vedere cosa c'è dall'altra parte, ed è questo il peccato più grande che si possa fare, credo. Tu, Don Alberto, che hai, da quando hai iniziato a stare su YouTube, adesso hai una quantità incredibile di visualizzazioni, veramente una roba, adesso io i numeri non li so neanche dire, però rispetto alla paura, tu hai raccontato, ho letto delle tue interviste dove dici che hai iniziato a farlo con molta spontaneità, poi hai visto crescere questi numeri crescere enormemente, adesso sei seguitissimo, ti viene un po' l'ansia da prestazione, o l'ansia da perfezione forse, cioè, ma accidenti, adesso che tutta questa gente mi guarda, devo farlo proprio bene, e magari ti sembra di aver perso un po', non so, lo spirito, con lo slancio con cui lo facevi inizialmente. Io sono perfezionista, questo è uno dei miei tanti difetti, per cui vorrei essere perfetto, forse per bilanciare le mie fragiltà, i miei limiti, sono molto limitato, e quindi per compensare vorrei che tutto fosse al top nella mia vita, ma ovviamente non è così. Effettivamente ho iniziato sull'onda dell'entusiasmo, senza pretese, veramente, c'è il covid, l'oratorio chiude, i ragazzi sono a casa, quindi non c'è niente da fare, facciamo dei video, così se li guardano e possono pensare qualcosina. Bene, dopo questo inizio senza pretese, tutto quanto è arrivato in maniera assolutamente inaspettata, e io non ho fatto altro che assecondare quello che mi stava capitando. Ci sono stati dei momenti in cui non tanto l'ansia alla prestazione, quanto invece la maniera di perfezionismo mi ha un attimino condizionato, sì. Credo che possa capitare in tanti ambiti della vita. D'altra parte, però, nel momento in cui, poi arriva un punto in cui uno fa i conti con la realtà, no? Cioè, dice, fai i conti con le tue forze, con il tuo tempo, con i tuoi limiti, con la tua vocazione, cioè, cosa sei chiamato a fare, e poi fai un sano esercizio di realtà, per cui torni con i piedi per terra, esci un po' dalla tua testa, dai tuoi ideali, e proprio considerare quello che c'è davanti, quello che stai vivendo. Io mi sono reso conto, ho fatto un po' di conversioni, anche a livello di comunicazione, a livello di progettualità rispetto ai soci, per cui ho cambiato tante volte indirizzo, nel tentativo di assecondare la realtà. Ecco, appunto, credo che il punto sia questo, fare in modo che non sia solo il proprio ideale a muovere quello che stiamo facendo, ma che sia bilanciato da una interpretazione, comprensione ponderata della realtà. Cioè, per stare sul tema della vocazione, Dio ci chiama, io dico Dio, ognuno dice quello che vuole, nella realtà attraverso la realtà, attraverso la nostra coscienza che parla, che va considerata, ma attraverso la vita degli altri, attraverso le circostanze. Cioè, la vita è vocazione. Io posso avere anche le maniere di perfezionismo più grande, ma ammetti che un giorno, non so, Google impazzisce, mi chiude il canale, e io video non li faccio più, e cos'è? Allora vuol dire che ho sbagliato tutto, mi impunto, non lo so, troverò un'altra possibilità. Cioè, tento di considerare la realtà, la metto in dialogo con la mia coscienza, e lì, a quel punto, si fa strada la mia vocazione. Ah, è bella questa cosa di assecondare la realtà, che ti rilancio, perché mi ha fatto venire in mente una frase che a me piace tanto, e su cui mi arrovello tanto, è una frase di Kafka, dove lui dice, nella lotta tra te e il mondo, cerca di assecondare il mondo, che è una cosa molto contro tendenza, in realtà, perché uno, nella propria lotta contro il mondo, vorrebbe tonificare se stesso, no? Però è interessante rispetto a quello che tu dicevi sull'assecondare la realtà. Tu che dell'essere contro, nei tuoi libri, ne parli, tant'è che il titolo del tuo ultimo libro è proprio su questo. Secondo te, Kafka sta dicendo una cosa giusta, asseconda il mondo nella lotta tra te e il mondo, o no? No, no, è sbagliatissimo, devi invece... Ma sai che io pensavo fosse di Frank Zappa, non di Frank Kafka? Ma perché in realtà è stata ricitata molte volte da Zappa, ma per un problema di consonanza. No, invece arriva dei diari... Come quando mi hanno detto l'altro giorno che colluttorio si scrive con una T sola. Lo sapevate? Colluttorio, si dice. Eh, sono fatti i fenomeni. Oh, sì, sì, lo sapevo, perché tutti è impossibile che lo sapevo. Comunque... Però no, è Kafka dai diari, però secondo me anche Zappa l'avrà usata. Sì, 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 io di Zappa sono sicuro, però meglio, meglio, così quando la citerò d'ora in poi farò... Eh, l'ha detto... È molto kafkiano, questo kafkianchi, eh? Sì, l'essere contro è in realtà credo una sorta di bisogno che ho... Qualcosa che nasce da molto nel profondo, non so bene da dove, dovrei forse andare da qualcuno che me lo è, però ho sempre sentito che fosse la strada giusta, come dire, no? Quando tutti cercano di dire una cosa, io mi sposto dall'altra parte, per istinto proprio, è quella cosa che dicevi tu prima, dello studente bravo, per esempio, io la provo nel mio lavoro, perché istintivamente sono, come dire, quasi sedotto, proprio attratto, sempre portato verso quegli studenti che tutti gli altri magari tendono a dire, no, questo è un caso disperato, non se ne può più, no? Invece quello diventa il mio subito preferito, istintivamente, perché ho anche constatato poi negli anni, oltre all'istinto, anche la ragione mi ha supportato, che poi sono quelli che hanno qualcosa in più. Proprio quelli che all'inizio ti sembrano i casi più disperati, più, eh? Sono quelli che dentro hanno, portano un mondo proprio che gli altri non riescono neanche a vedere molto spesso, non riescono neanche a comprendere e che in qualche modo si mostrerà forse dopo. E poi ancora di più sono anche di solito quelli che dopo dieci anni, magari quindici anni, ancora ti scrivono i messaggini, no? Ti fanno vedere le foto mentre fanno in viaggio, l'altro giorno uno mi ha scritto perché sta male, vuole parlarmi prima di partire per un viaggio. Boh, questo per dire insomma che l'essere contro, credo che a maggior ragione oggi serva, proprio in questa attualità qua, perché vabbè, caso molto attuale che mi riguarda in modo molto personale, ma poi lo posso anche allargare, c'è stato questo sciopero, no? Del magazzino dei libri di logistica dove arrivano tutti i libri in tutta Italia e le ragioni dello sciopero, ora vabbè, parte la cosa che è successa a me, ma io penso agli operai. Molti di quegli operai stavano scioperando, mi sono informato, perché uno dei motivi è che hanno acquistato questa macchina che ne licenzierà decine adesso, cioè questa macchina nuova che farà il lavoro di molti di loro e quindi torniamo in qualche modo al vecchio luddismo, no? Il luddismo è questa cosa che nella prima rivoluzione industriale distruggevano le macchine perché licenziavano gli operai, no? E questa cosa qua si sta, hanno appena brevettato un algoritmo ragazzi, un'applicazione, chi è insegnante di lettere qua? Colleghi di lettere, palesatevi, preparatevi, adesso cosa vi sto per dire? C'è questa applicazione che tu gli passi il testo al computer in Word, un testo di un tema, quindi può essere anche un testo narrativo, e lo sa correggere come un prof, è talmente sofisticato, sì, hanno fatto la prova e hanno visto che i voti, la media dei voti è la stessa dei prof umani, saremmo licenziati anche noi da un algoritmo ragazzi. Ma chi si salverà da questa cosa? Chi nel futuro saprà sopravvivere a questo progresso? Chi saprà pensare diverso? Chi fin da piccolo sarà stato allenato a cercare di tenere il più vivo possibile il proprio lato umano e irriproducibile da nessuna macchina, chi quindi saprà pensare in modo creativo, anche la scienza, anche la matematica, anche quelle discipline lì si possono pensare in modo creativo, e questo significa secondo me andare contro, io sento questa corrente appunto che ci spinge a essere tutti uguali e io penso che nel mondo che ci aspetta, soprattutto dopo questo anno e mezzo, chi invece saprà venirne fuori, salvarsi, sarà chi stare fuori da questa corrente. Sull'oporre resistenza e sui personaggi che stanno un po' fuori dalla corrente, il tuo libro, che mi incuriosirebbe anche sentirti un po' parlare del tuo libro, visto che è il tuo esordio, poi parliamo anche del libro di Enrico che è tutt'altro che un esordio, ma... no, per correttezza. Bravo, bravo, sì, parcondicio, ti cronometro, eh, guarda che... Perché è una storia di amicizia e c'è un ragazzo apparentemente un po' più centrato e invece un altro che vive una marginalità diversa, sono interessanti a... Che è la classica storia che ricevo stando in oratorio, dove ho quelli dell'oratorio, quelli bravi, eh, e poi quelli di fuori, quelli che vengono da parchetto, dalla periferia, dall'altro quartiere, rumorosi, sgangherati, un po' drogatelli, insomma, ok. E... io... sono convinto che il problema principale che debba affrontare, la sfida più grande che ho come prete, è riuscire a creare amicizia, a creare fraternità, eh, soprattutto tra le persone più diverse. Credo che l'amore possa compiere questo grande miracolo, comporre le differenze, farle stare insieme. E l'oratorio vedo che può essere un... e lo dico qui, dove, insomma, l'oratorio, così come lo conosciamo, è nato. La cerniera, fra mondi diversi, il posto dove le differenze non sono un problema, un ostacolo all'incontro, ma anzi una risorsa. Beh, c'è Federico, brava famiglia, liceo classico, oratorio, Riccardo, famiglie disastrate, in esistenza, percorso turbolento, non va manco a scuola, eh, si scontrano, eh, per varie questioni e poi si incontrano. E a questo punto, ehm, deve nascere qualcosa, cioè, sono messi lì, lì, alle strette con loro stessi e devono capire cosa fare. Si sono resi conto che l'altra persona non è un nemico, ma ha un potenziale amico, eh, a patto che però lo si accoglie come tale. Una delle cose, delle grazie più grandi che ho ricevuto nella vita è capire che l'amicizia è un dono, che gli amici non si scelgono, secondo me, o meglio, si riconoscono, si ricevono e poi al limite scegli di investire in questi rapporti, ma nessuno può dire che, ah, ti ho scelto io, eh, sono stato bravo io, perché siamo amici, devi la tua amicizia a me, insomma, eh, gli amici sono una grazia che va al di là di quello che possiamo fare. Eh, poi, come ogni dono, eh, ce l'hai in mano e devi decidere se farlo cadere per terra, metterlo da parte, dimenticarlo, oppure, eh, aprirlo, scartarlo, goderne e farlo diventare un principio di, di, di arricchimento della tua esistenza. Questa storia di amicizia, eh, in qualche modo vuole essere una storia che, eh, a zanni le questioni più, più essenziali della vita. Cioè, io da diciassettenne vivevo quelle cose come il cuore pulsante della mia esistenza. Cioè, lì c'è, lì mi appassioniavo, eh, attorno a quegli argomenti ero innamorato, insomma, l'esperienza di conoscenza più bella di me è, eh, accaduta attorno ai temi che ho tratto dal libro. E pensando ai ragazzi che ho davanti, ho detto, di cosa parlo? Parlo di quello che può scaldare il cuore di un ragazzo in questo momento, che possa accendergli meglio di sé e credo che l'amicizia sia l'ingrediente fondamentale, che per essere, eh, felici nella vita bisogna essere amici. E senza amicizia, eh, questa felicità, eh, rischia di essere altro. Soddisfazione, realizzazione, eh, successo, ma, eh, senza qualcuno con cui condividerla, beh, eh, rischi di, di, di essere solo. E se sei solo, eh, non puoi essere felice. E tra l'altro nel, beh, nel romanzo chiaramente ci sono dei riferimenti anche alla Bibbia, perché poi c'è un sacerdote che, eh, che è anche una figura illuminante rispetto a questi ragazzi, però invece c'è un certo punto, metti un pezzettino brevissimo di Vangelo di Giovanni in bocca a un altro ragazzo che dice, vieni e vedi, che è una splendida frase che dice Filippo a Natanaele nella Bibbia, quando Filippo dice, eh, hanno trovato Gesù, il profeta, qua e là, e lo dice a questo Natanaele, Natanaele dice, no, ma guarda, sei di Nazareth, no, perché nulla di buono viene da Nazareth, e quello gli dice, vieni e vedi. Alla fine è un po' questo quello che vedi in oratorio, cioè, è che attraverso l'esperienza i ragazzi riescono a andare e vedere che cosa c'è dietro allo stereotipo, cioè si leggono anche un po' per stereotipi tra loro in oratorio, e l'oratorio serve anche a smantellare queste finte armature. È sempre così, questo è il dramma della vita, no, che anziché incontrare l'altro, incontro l'idea che ho dell'altro, e quindi l'altro se ne sta di là, quello che è veramente, quello che pensa, la sua storia, diventano assolutamente indisponibili perché io ho già deciso che lui è così, fine, punto. E questo vale anche per dire, la maggior parte dei problemi di fede sono dovuti a questo principio sbagliato, per cui tu non è che credi o non credi in Dio, tu credi o non credi alla tua idea di Dio, poi magari è sbagliata, perché quello non è Dio, quella non è la chiesa, però tu hai deciso che ci credi oppure che non ci credi. Però senza un principio di sana realtà, che passa attraverso un incontro, un'esperienza, la fede rischia di diventare assolutamente qualcosa di molto pericoloso addirittura, e la cosa importante nella vita è tentare di fare questi incontri, queste esperienze, di mettere insieme le persone, di far incontrarci con il volto della realtà, anche quello più ruvido, per cui in oratorio o su un campo di calcio, in un'aula di catechesi, al bar, piuttosto che dovunque, quello che conta è riuscire a stare insieme, incontrarci, parlarci, misurarsi reciprocamente, è bellissimo. Adesso abbiamo riaperto l'oratorio, quindi sono tornati tutti, 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 anche quelli che pensavo fossero spariti, dicevo, ma questi non li recupero più, no, sono tornati, ovviamente sono tornati anche i pregiudizi reciproci, classico, ed è bellissimo vedere come, adesso che devono giocare insieme a pallavolo, per dire, o devono capire chi utilizza l'unico pallone che c'è da calcio, sono costretti a misurarsi gli uni con gli altri, per cui, ah, che palle, loro ci rubano, si fanno sempre casino, poi in realtà si scontra col fatto che quelli che fanno sempre casino in realtà si lamentano coi buoni, perché? Perché non ci ascoltano, perché hanno dei pregiudizi, perché ci trattano sempre male, quindi, per tornare a quello che dicevo prima, perché ci credo molto, c'è bisogno di guardare faccia a faccia la realtà, sempre, in ogni cosa, e questo libro è un po' un tentativo di dire che questa cosa è assolutamente essenziale. Ma si vede che ti entusiasma perché gesticoli anche tanto e hai anche le braccia lunghissime, e io ho molta paura di ricevere un ceffone per errore. Immagina dal pulpito la mattina, durante le messe, non mi controllo. Faremo una spedizione col torpedone tutti per venire a vederti. Senti Enrico, invece tu adesso, nell'ultimo romanzo che hai scritto, è bello perché sei tornato su personaggi che sono tanto, tanto indietro nella tua memoria di scrittore, ed effettivamente tu avevi lasciato questi personaggi, che sono Gioia e Lo, per chi ha letto Tutti cadiamo felici, insomma li ha già incontrati. Questo lapsus, Tutti cadiamo felici, eppure cadiamo felici. Te ne ho uniti due, e sì perché tutti cadiamo felici, è un lapsus rilchiano, eppure cadiamo felici, li avevi lasciati sulla soglia anche di alcuni desideri che loro non erano riusciti in fondo a realizzare, dei desideri un po' impossibili, e adesso invece li hai recuperati dopo un po' di anni. Ma io prima di rispondere alla tua domanda posso dare il mio, rispetto a quello che ha detto lui? Sì, anzi voi ogni tanto io posso anche ritrarmi e voi chiacchierate tranquilli. Anzi vi metto in posizione di sicurezza dalle sberle di Don Alberto. Io non sono molto credente, però credo che se avessi avuto te come parroco, cioè... Una conversione a Torino spiritualità! No, nel senso che questa cosa che hai detto, che noi non conosciamo l'altro, ma quello che noi pensiamo che sia l'altro, oltre che verissima, si traduce in un effetto alla potenza, no? Quando a fare così siamo noi insegnanti, perché noi insegnanti abbiamo un potere quasi plasmante verso i ragazzi e le ragazze, e si possono creare dei danni pazzeschi quando ciò che noi pensiamo che sia l'altro, no? Che poi non è così, noi magari pensiamo, questo qua è uno che non ha voglia di far niente, ma noi, con questo semplice pensiero, senza fare altro che pensarlo, già lo stiamo indirizzando verso diventare quella roba là. Avete mai avuto una materia in cui andavate male o bene, poi cambiando insegnante, cambiavate anche totalmente, cioè se andavate male poi improvvisamente andavate benissimo, e il contrario, no? Mi è mai successo? Credo che sia successo quasi a tutti, è mai successo anche col calcio, per esempio, cambiando allenatore, no? E ti dici, ma com'è possibile? Io sono sempre lo stesso, com'è che improvvisamente divento un genio, oppure divento bravissimo in questo sport? Cosa è strano? E qua c'è questa cosa che, vabbè, chi fa l'insegnante come me lo sa benissimo come si chiama, è l'effetto pigmalione, no? Pigmalione, appunto, che era questo scultore mitico che creava statue vive, il concetto è proprio quello, noi abbiamo questo potere di creare in qualche modo ciò che saranno, ma anche in positivo, ovviamente, e in negativo, ed è questo che mi ha molto colpito di quello che hai detto, perché si incrocia perfettamente con quello che facciamo noi tutti i giorni, e venendo a questo, ho preso a rispondere anche alla tua domanda, così faccio, e poi tornare con la sedia più avanti, che tu hai detto, sì, appunto, hai continuato questa storia, sì, esatto, e adesso ho voluto provare a raccontare un momento particolare, il primo libro era una fotografia dell'adolescenza, nel cuore proprio dell'adolescenza, adesso ho detto, ho sentito che fosse giunto il momento di raccontare invece con una Polaroid, il momento in cui da adolescente stai diventando grande, cioè devi cominciare a prenderti, a prendere delle decisioni, delle responsabilità, e la protagonista, Gioia, in quel momento ha una grandissima crisi, perché scopre che tutte le sue più grandi certezze scrollano, chi amava si sente tradita da chi amava, e soprattutto il suo più grande esempio, un professore che per lei era, scopre di lui una cosa terribile, e gli fa dire, ma come? Cioè proprio tu che parlavi, che dicevi queste cose qua, tu sei quello che poi ha fatto peggio di tutti? E allora volevo raccontare in qualche modo questo tema, che secondo me non viene molto, non so perché, eppure dovrebbe, perché Gioia arriva a lasciare la scuola, tranquilli non è spoiler per chi non l'ha letto, perché succede a pagina 5 tipo, quindi non è un vero spoiler, lascia la scuola e scopriamo insomma che l'ha abbandonata, volevo trattare il tema di tutti questi ragazzi che sono in Italia, tantissimi, siamo fra i primi in Europa come abbandoni scolastici, perché non se ne parla? È la cosa peggiore che possa succedere a uno studente che abbandona la scuola prima dei 16 anni, che dice basta non vengo più, e molto spesso mi sono chiesto perché succede? Credo che spesso succeda, oltre alle ragioni sociali, no, come che hai già in parte trattato tu, c'è anche proprio il tema, ma la scuola come li vedesti ragazzi quando si, come li interpreta, qual è l'immagine che se ne fa all'inizio? Siamo sicuri che non siamo anche noi a farli diventare così? Non è che sono loro che si sentono respinti, non è che se ne vanno perché non hanno voglia di studiare, se ne vanno perché si sentono respinti dalla scuola, si sentono non compresi, non accettati, non capiti, sentono che quello che hanno da dare non va bene, che anche se hanno mondi dentro, la scuola italiana in particolare credo che funzioni così, non è un posto dove uno si possa sentire a casa, e io vorrei che questa cosa cambiasse, anche per questo ho scritto questo libro. Ma secondo te ha a che fare con una competitività che magari gli insegnanti a volte senza volerlo innescano? Beh, devo dire che su questo ha un peso molto forte, una cosa che, vabbè, contro cui io mi batto da un po', che è il voto numerico, no, e che in qualche modo è diventata una sorta di, cioè, la valutazione intesa in questo modo, col voto numerico, con la cosa, poi io ogni, non so se ti succede anche a te adesso che hai cominciato a fare questi video sui social, ma ogni giugno ho la casella di messaggi piena di ragazzi che sono stati fermati, bocciati, rimandati, che vanno totalmente nel panico, la mia vita è finita, sono un fallito, basta, non è, e in un paio di occasioni addirittura ragazzi che a me si confessavano che volevano farla finita, cose veramente, cioè, dopo, una volta ho fatto arrivare i carabinieri a casa di uno, sono riuscito a rintracciarlo, grazie alla mia compagna che è una stalker di professione, è riuscita a trovare l'indirizzo e gli ho fatto mandare, perché mi ero veramente preoccupato, no, di questo, ma sono cose che succedono, perché il fallimento viene vissuto come, non un fallimento di una prestazione, ma come il fallimento della persona, perché si pensa che se uno sbaglia un compito sia lui sbagliato e non semplicemente mi è venuto male, magari c'aveva l'ansia quel giorno, i motivi possono essere tantissimi, perché accade questo? E credo che questo dipenda molto anche dal nostro, già da come li valutiamo, fare questa sorta di divisione fra buoni e cattivi, fra bravi e meno bravi, giusto? Anche lo stesso, non so il vostro com'è, ma il mio della relazione finale, come me l'hanno impostata, è fatta così, dividi la classe per gruppi di livello, questi sono i bravi, che penso che, io lo lascio sempre in bianco, scusa. Don Alberto, se hai da commentare, io non faccio la domanda. Io sono insegnante, tra l'altro, insegno religione, e grazie a Dio non devo dare vuoti numerici, quindi io godo quando vado in classe, sono felice perché devo insegnare una materia che vabbè, è l'ultima, l'ultima ruota del carro, delle materie, bla bla bla, però mi sento fortunato perché non devo preoccuparmi di dare valutazioni di questo tipo, per cui si può creare tutto un altro tipo di rapporto fra me e i ragazzi. forse a volte troppo sbilanciato sulla relazione, ma perché sento l'esigenza di compensare quello che capita o non capita nelle altre ore, per cui forse se manca umanità, ecco, d'approccio nelle altre materie, allora questa umanità bisogna superirla in altre parti, io quindi io ci provo. Ed effettivamente questo, cioè, concordo in pieno, non capisco perché neanch'io, cioè nel senso, io stesso ero vittima di questo sistema, eh, ossessionato dal voto, devi stare bravo, poi ero in un valiceo classico, tutti bravi, perché la scrematura del classico si fa ai primi anni, ok, via quelli scarsi, e poi rimangono le eccellenze, ed è una gara a chi fa di più, a chi ha i voti più alti, ed è difficile poi uscire da questo gioco perverso se non c'è nessuno che ti tira fuori. Forse, uno dei motivi, credo che, cioè, è un problema di sistema più grande della scuola, in realtà, è tale per cui oggi vale solo quello che è utile, cioè il principio di utilità è elevato al principio massimo per fare discernimento sulle persone, sui soldi, eccetera, eccetera, quindi tu, studente, vali solo se sei utile, se produci un utile, l'utile per lo studente è il voto, hai voti alti, ok, hai voti bassi, no, no, buono, perché quando andrai a lavorare, se fatturi, bene, se non fatturi, ti licenziamo, e così nella vita in generale, a volte anche nelle relazioni, eh, siamo amici perché mi servi, non per altri motivi, piuttosto che anche le relazioni amorose, stiamo insieme perché ho bisogno di avere una stampella su cui reggermi, se no non mi sento nessuno. Nel momento in cui la persona viene, il valore della persona viene persa e viene valutato solamente in base all'utilità, quello che produce, questo è il dramma. Gesù del Vangelo diceva, due sono i padroni, o la ricchezza o Dio, e ne segui o uno o l'altro, e dietro la ricchezza ci sta a tutto questo mondo, il denaro, l'utilità, il fatturato, eccetera, eccetera, Dio penso che sia invece il valore della persona, il volto dell'altro, la relazione, ed è proprio difficile tenere insieme le due cose. Credo che a volte come sistema si stiamo sbilanciando su quello lì, su quello dell'utilità, del voto, del valore numerico delle cose, quando invece se guardiamo il nostro cuore c'è molto di più, attorno a cosa ruota il mondo, attorno al denaro, all'economia o attorno al cuore delle persone? Questa è la vera domanda, e calandolo nella scuola, negli oratori, nella politica, nelle famiglie, beh, a volte i nodi vengono la pettine, penso. Senti, invece nei tuoi video tu lavori molto nel raccontare un'idea di Dio che è un po' diversa da quella che è la vulgata spesso diffusa. Secondo te quali sono gli aspetti principali che uno dovrebbe smantellare per arrivare a farsi un'idea di Dio un po' più realistica? Qualsiasi, cioè qualsiasi idea di Dio è sbagliata, o meglio, noi siamo esseri viventi che sono condizionati dallo spazio e dal tempo, cioè purtroppo di cose abbiamo questi due limiti, questi due vincoli. Quindi inevitabilmente ciascuno di noi vive, pensa, crede a partire dalle esperienze che fa nello spazio e nel tempo. C'è sempre bisogno di un'esperienza per credere. E la qualunque fede tu possa avere, questa poi la riconduciamo a delle esperienze che hai fatto, che sia qualcuno che ti ha parlato di Dio in un certo modo, un'esperienza di Dio in un certo modo, eccetera, eccetera. Nel momento in cui la nostra fede si sostanzia solamente di idee che abbiamo ricevuto magari da altri, che però non passano attraverso un'esperienza, allora quelle secondo me vanno proprio smantellate, o perlomeno c'è bisogno poi di verificarle, di fare esperienza. Parlo per la mia squadra, diciamo così. Il cristianesimo non nasce come teologia, nasce come vita di una persona, che era Gesù di Nazareth, che ha fatto certe cose, ne ha dette certe altre, ha incontrato certe persone e attorno alla sua esperienza, che poi è stata il contenuto principale di quattro storie, che sono i Vangeli, attorno a questa esperienza che viene raccontata nasce la fede. E quindi per credere c'è bisogno di risalire a un evento fondatore, che è avvenuto nello spazio e nel tempo. Se le nostre idee di Dio sono campate per area letteralmente, per cui non si agganciano a un racconto, a una storia, che è la storia di Gesù Cristo, allora queste cose inevitabilmente rischiano di essere problematiche, o di non essere cristiane, semplicemente. Cioè, è una fede non cristiana. Tanto cattolicesimo che c'è in Italia non è cristiano, perché non ha niente a che fare, i punti di contatto con la vicenda di Gesù Cristo sono talmente appannati, fumosi, che sono diventati un'altra cosa. Quindi nel mio tentativo di raccontare la fede col linguaggio di oggi, provo, a partire dalla mia esperienza intanto, perché poi non è che dico cose diverse da quelle che io stesso ho ricevuto. Tento di provocare il più possibile l'immaginario comune del cattolico medio in Italia e tento di riportare all'evento fondatore, che è la vicenda di Gesù. Credo veramente che, per dire, non so quanti qui sono cattolici, però la domanda che dovremmo farci tutti è, ma il Vangelo l'abbiamo letto almeno una volta nella vita per intero? No, perché è la nostra fede, di quello si parla, ma se quella storia non la sappiamo è un po' un problema, ma anche, come dire, i non cattolici praticanti, per dire, nelle ore di religione, benedettissime ore di insegnamento di religione cattolica, quell'evento fondatore della religione cattolica, del fatto chiesa, del fatto religione, che è il Vangelo, viene raccontato, viene letto, così come si leggono i promessi sposi, l'odissea, eccetera, eccetera, il Vangelo è un test che viene letto? No, e quindi si fa la religione cattolica, il catechismo, spesso, evidentemente a partire da delle grandi idee, dalle teologie. Bene, dimentichiamoci che le teologie sono nate come elaborazione di una storia e Gesù non è venuto a fare il professore di teologia, è venuto a fare l'uomo che ha incontrato, è stato fratello, amico, padre, guaritore, consolatore, eccetera, eccetera, eccetera. Padre, aspetta, colpo di scena. No, 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 nel senso figurato, l'avevi appena convertito. Prima l'ho scoperto collutorio, adesso mi... e Kafka e Zappa. No, no, effettivamente, allora, no, padre no, adesso non voglio entrare in questo dettaglio, però Gesù si è posto, ha tentato di vivere la vicenda umana a 360 gradi e quindi il suo essere uomo di sesso maschile, inevitabilmente nel rapporto con l'altro, pur dentro la vita celibe, ha esercitato un certo grado di paternità. L'ho salvata. Sì. Hai scoperto che Gesù è padre e che dietro a Frank Zappa c'è Franz Kafka e mi sembra che già ti sei portato a casa. Ti porto a casa due che vado veramente felice. Senti, tornando al tema della vocazione, io penso che ci sia poi un'altra difficoltà che uno ha nell'inseguire la propria, perché uno ha sempre due desideri contrastanti, io credo, almeno io li ho sempre sperimentati. Uno è quello un po' di eccezionalità, di stagliarti sopra gli altri, di non essere come tutti gli altri. D'altro canto, però, un sacco di volte invece il desiderio che hai profondo è anche quello di essere un po' come tutti gli altri, anche un po' meno visibile, un po' meno esposto. Secondo te la propria vocazione è uno, per centrare la propria vocazione, come trova un equilibrio tra queste due spinte così diverse che però a me sembrano ugualmente forti nell'essere umano? Ma credo che siano considerazioni che uno fa forse a posteriori, non lo so, però sai, gli antichi greci lo chiamavano il daimon. È una sorta di angelo custode che ognuno di noi ha, i demoni dell'antica Grecia sono a metà, vivono metàxù, si dice in greco, cioè a metà fra il cielo e la terra e vegliano su di noi e ci seguono ovunque e in qualche modo sono il riflesso proprio di quella che la nostra, chiamiamo la vocazione, il nostro anche destino se vogliamo. La parola greca felicità si dice eudaimonia perché significa essere in compagnia di un demone buono, cioè in qualche modo aver assecondato il proprio demone e per essere felici bisogna assecondare il proprio demone, altrimenti poi se non lo assecondi, se non segui ciò che lui ti dice, il demone buono si trasforma nel demone invece nostro, quello cattivo, cambia totalmente natura e ci può rendere persone frustrate, arrabbiate col mondo, no? E quindi questo va oltre l'essere eccezionale o l'essere, anche io credevo, sai, quando ero molto piccolo sognavo di farlo scrittore, no? E mi immaginavo che la cosa bella dello scrivere fosse proprio la gente che ti ferma per strada, tu hai scritto il mio libro. E non posso dire che sia una cosa brutta quando succede, quando succede, non posso dire che sia brutto, ma non è lì in realtà la vera gioia, io l'ho provata, per esempio, quando una ragazzina di 15 anni in un evento come questo a Pordenone mi ha fermato mentre stavo parlando, ha alzato la mano, prof le devo fare una domanda, io pensavo fosse sul libro, sai, no, non parlo più con mio padre, 400 persone, non parlo più con mio papà, come devo fare? Già sudavo io, fine estate, caldo, e così lì per lì la cosa che mi è venuta da dire istintivamente è stato, va bene, non riesci a parlarci, non è più un dialogo, prova a scrivere ciò che provi, no? Lei poi ha anche cercato di descrivere quello che provava per lui, ha detto scrivi quello che ci hai detto a noi qua, 400 persone, se l'hai detto davanti a 400 persone riuscirai a scriverlo? E poi in realtà è la cosa più difficile, parlare alle persone a cui vogliamo più bene, dire ciò che proviamo è la cosa più difficile del mondo, comunque passano credo due mesi, tre mesi, mi ritrovo nella casella dei messaggi, un messaggio di questa ragazza, si ricorda, io ero lì a Pordenone Legge, sì sì mi ricordo, ecco sappia che le ho scritto a mio papà, gli ho fatto trovare un bigliettino in cui diceva qualcosa che provavo e dopo lui è venuto a bussare alla porta di camera mia e mi ha detto vieni che di là che guardiamo un po' la tv insieme, ecco io lì mi sono sentito realizzato, il mio destino è compiuto, ho fatto il mio dovere su questo, questa è la felicità, quando riesci a sapere di aver aiutato qualcuno a stare meglio, io la percepisco così, per me è questo, significa quindi mettere ciò che hai, che Dio ti ha dato, no? E lo metti a disposizione del mondo perché il mondo magari quel giorno lì, anche solo per un minuto, sia un posto un po' migliore. Bella, una bella definizione di felicità. Ce n'è un'altra bellissima di Flaubert che però forse è attribuita a Frank Zappa anche questa, che lui dice che servono tre cose per essere felici, essere imbecilli, essere egoisti, essere in buona salute, ma se ti manca la prima non c'è proprio verso. Però la tua è più bella, e lui era un po' cinico, un po' caustico. Volevo, ti faccio ancora una domanda, poi lasciamo invece anche spazio alle vostre domande. Quando Enrico parlava del demone, del demone in senso greco, ci sono delle, in effetti Platone racconta delle cose bellissime, cioè tipo nel simposio Socrate arriva tardi, tutti lo aspettano, tutti sono gelili, arriva tardi perché lui si incanta fuori a parlare col proprio demone, completamente assorto. A te capita di avere un dialogo simile con Dio, tale da tagliarti fuori da tutto il resto, intanto il mondo continua a scorrere al suo ritmo e tu invece sei in questa condizione. Mi piacerebbe farlo, cioè io, guarda, racconto un episodio significativo da questo punto di vista. Quando ero un adolescente alla ricerca della propria vocazione, della propria felicità, 17-18 anni, io di questi momenti ne ho vissuti tanti. Me ne ricordo uno, ero in oratorio, alla sera, incontro di catechesi, entro nella letta con i miei soci, non mi ricordo di cosa stessimo parlando, ma una cosa è chiara, sentivo il bisogno di uscire e non capivo perché, sentivo proprio il bisogno di andarmene fuori e di, boh, starmene sotto il cielo, pregare, pensare, riflettere, come se ci fosse stato un richiamo, una sirena, un gancio e ho passato i primi 15 minuti nel panico più totale perché non volevo andarmene, cioè non volevo fare quello originale che se ne va, perché, a un certo punto ho detto basta, me ne vado, sono uscito e mi sono messo su una panchina, in mezzo a campo da basket al buio, freddo, freddo freddissimo, era gennaio, sotto un cielo stellato e lì mi ricordo che ho pregato e tutti mi stavano cercando in quel momento, ma non mi importava, cioè avevo bisogno di stare alla presenza di colui dal quale mi sentivo chiamato e che in qualche modo stavo conoscendo, ma dei bisogni del genere, me ne sono capitati una valanga, mi allontanavo e mi mettevo un po' a pregare, a scrivere poesie, era il periodo in cui ero innamorato della vita e scrivevo poesie, che per me era necessario, era essenziale, a volte vedo farlo anche ai ragazzi, ad esempio in oratorio abbiamo una cappellina, molto bellina, tutta sistemata di recente e loro sanno che possono, che è un luogo custodito, poi c'è il bordello, casino, ma lì silenzio e a volte vedo che qualcuno entra, ma in maniera inaspettata, cioè i più inaspettati a volte entrano in quel posto perché sanno che lì c'è possibilità di fare silenzio, quindi, che non vuol dire non parlare, basta, significa proprio far parlare veramente quello che c'è, il diamond che c'è dentro, darti la possibilità di ascoltare quelle parole che nessuno ha la possibilità di ascoltare e che nel caos della vita tu non hai possibilità di sentire, una volta che le hai sentite ti puoi orientare verso la tua felicità e torni dentro la battaglia e sai da che parti andare, ecco perché è importante fare silenzio, ecco perché è importante pregare, pregare è come prendere le distanze dalla vita e guardarla da un'altra prospettiva, come quando tu, sono andato in aereo, mi hanno fatto guidare un aereo, un matto, un qualche mesetto fa e sopra il lago, i laghi del Varesotto e ho visto Gardaland che dall'alto era un puntino piccolo così, minuscolo, ma come Gardaland, è enorme Gardaland, no, dall'alto è minuscolo e questo cambio di prospettiva lo trovo molto interessante, pregare è così, tu ti allontani un attimo dalla realtà, la guardi da un altro punto di vista, la ridimensioni, ti ridimensioni, ridimensioni i problemi al cospetto dell'onipotente e poi ci torni in mezzo sapendo che, cioè, niente mai potrà determinare l'esito della tua vita perché tu vali molto di più, perché c'è molto di più in gioco e perché la vita è molto più grande. Noi siamo in chiusura, vi volevo solo chiedere un'ultimissima cosa all'uno e all'altro, che desiderio state cullando in questo momento, in questo periodo? A me, quello più grande di tutti, proprio, riguarda proprio quello che faccio, mi piacerebbe, come dire, insegnare in una scuola dove sento tutti i giorni che i ragazzi sono felici di venire lì, proprio che, ah, una liberazione, no, che invece per molti è il contrario, no, è una prigione, una chiusura, e quando lo leggono i loro occhi io sto malissimo, praticamente mi sento incolpissima io in prima persona e poi mi sento male perché mi sento, mi sono sentito anch'io così e quindi vorrei che nessun altro si sentisse così, quindi il mio sogno è un po' questa cosa qua adesso, il mio desiderio più grande adesso. Breve e incisivo, eh? No, infatti, queste domande sono quelle che spiazzano le più difficili, eh? Non so, con quelle che uno deve dire prima, però... Eh sì, allora, 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 io in questo momento desidero che... riuscire a trovare un modo per parlare di Dio alle persone, in modo tale che le persone possano fare l'esperienza di Dio che ho fatto io. Mi piacerebbe che desidero che la Chiesa riesca a trovare una strada, un percorso, una comunicazione, un linguaggio, una parola che possa arrivare al cuore delle persone di oggi, andando oltre i pregiudizi, oltre le precomprensioni, oltre anche gli sbagli, i fatti, gli ostacoli, le... insomma dire, le distanze che si sono create, a volte, tra il mondo e la Chiesa. Perché? Perché c'è in gioco tanto, cioè c'è in gioco la possibilità che il mondo e Dio possano in qualche modo andare avanti insieme, che il cuore degli uomini possa essere il motore che fa girare il mondo intero. So che è un desiderio grande, per me si concretizza in quello che faccio, in oratorio e sui social, e scrivendo libri, insomma, facendo prete, però il desiderio... scusami, intanto mentre parlo, vi valgo. Desidero che questa cosa possa essere condivisa da altri, cioè desidero non essere solo nei miei desideri, desidero che i miei desideri possano essere in qualche modo, incrociare i desideri di altri, dentro un grande desiderio più grande e che... e niente, smetto di parlare perché se no vado avanti. Grazie, scusate. Grazie. È bello perché i vostri sono entrambi i desideri orientati verso il prossimo, verso chi sta davanti, non sono quei desideri ripiegati su di sé. Non ho capito, cosa hai detto? No, 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 dico bravi, bello, che sono desideri verso gli altri, non quei desideri che sono solo ripiegati un po' su proprio... Ne ho anche altri ancora, ma c'è un prete qua, non posso... Vabbè, allora, prima di sentire le confessioni pubbliche di Enrico Galliano, grazie per essere venuti ad assistere alla conversione di Enrico Galliano su questo palco, ad opera di Don Alberto Ravagnani. No, grazie veramente a entrambi per questa vostra testimonianza, per aver parlato con noi di vocazione, di desiderio, di paure, di sbagli. Sono tutti temi che si legano tanto al tema di quest'anno e richiamano anche una dimensione di fragilità, che noi abbiamo provato a dirlo più volte. Quest'anno è insita nel desiderio, perché il desiderio è sempre uno squilibrio e quando sei un po' squilibrato hai un piede piantato a terra, l'altro è piantato in piedi, l'altro in aria e chi lo sa dove va a terrare. E quindi è una dimensione fragile che però noi volevamo quest'anno provare ad abbracciare. Quindi grazie mille Don Alberto Ravagnani, grazie Enrico Galliano per essere stati qui.